Ehm, ok, allora Ehm, non sarà molto semplice da spiegare Cioè, in realtà sì, sarà molto semplice Però è una cosa abbastanza ridicona Nel senso che il video di ieri è stato rimosso Perché, in effetti, era una stronzata colossale E me lo avete fatto notare nei commenti Poi ho controllato E effettivamente Avevate ragione Quindi, questo, questo video Anche lui andrà tipo rimosso dalla vita Insieme a quell'altro Tant'è che non troverete assolutamente il video di ieri sul canale Perché l'ho messo in privato Ehm, diciamo che mi son fatto un po' prendere Insomma, mi son fatto un po' prendere dalla notizia E dal video che avevo visto Quando in realtà è un errore normale di internet Che se finisci una parola con i Non cambia il risultato La vita E quindi nulla Pokémon Stars sconfermato Anziché confermato Ho fatto una stronzata Mi sembrava giusto eliminare il video Per il semplice fatto che Mi è già capitato di magari dire stronzate Però non così Non in questa maniera Rischiava di essere molto disinformativo come video E quindi ho preferito eliminarlo Anche se probabilmente ci avrei fatto santi iscritti Però vabbè Siccome di disinformazione nel mondo Ce n'è già troppa Direi che si poteva anche evitare questo video E infatti l'ho rimosso Tra l'altro anche questo qua Verrà rimosso a breve Oggi avrei voluto far uscire un secondo video Ragazzi Ma Cantasia mi ha buggato tutto E quindi il video che tra l'altro è una collaborazione Uscirà domani Anziché oggi Sperando che stasera io riesca a editarlo in un qualche modo Oltre a questa cosa qua Volevo anche dirvi che in queste ultime settimane C'è la scuola Ci sono i casini E quindi c'è la telecamera Che non mette a fuoco neanche a pagarla Sto aspettando Oh miracolo E appunto come stavo dicendo C'è la scuola e i casini Non riuscirò a portarvi tantissimi video Vorrei iniziare una nuova serie gameplay Però ci vorrà un pochino di tempo Quindi abbiate pazienza Usciranno pochi video in queste settimane E principalmente non gameplay Ma magari video reazione O robe del genere in sostanza Comunque ragazzi Nulla Questo è stato il fail più grande Che io abbia mai fatto su youtube Da quando vivo Probabilmente E Vabbè Non ve l'ha perduto Mi ero un po' fomentato Insomma E quindi ho fatto quel video lì Che ho rimosso Quindi Anche questo video verrà rimosso L'ho già detto Ciao Ciao